Allora, ultimamente alcuni dei miei atleti hanno avuto problemi con la gestione del bacino nello stacco sumo. Ho pensato comunque di farci un video a riguardo perché penso possa essere utile per molte persone. L'origine di questa malgestione del bacino molte volte è da associare a un input che diamo all'atleta quando andiamo a fare lo stacco sumo, ovvero fianchi avanti. Infatti nello stacco sumo eseguito correttamente più riusciamo ad avvicinare i fianchi al bilanciere più riusciamo a trovarci in una posizione vantaggiosa con il busto verticale dal quale riusciamo a imprimere più forza, a fare meno fatica sostanzialmente a sollevare più peso. Però nella maggior parte dei casi, non nella maggior parte ma molte volte, quello che può accadere, soprattutto se manchiamo di mobilità e non siamo familiari tanto col movimento, è questo sostanzialmente. Mi aggancio, mi sistemo, faccio per portare i fianchi al bilanciere e succede questo. Quindi possiamo vedere rettificazione del tratto lombare, retroversione del bacino, perdo quell'allineamento neutro della mia schiena e non riesco più a essere a piena potenza perché ho interrotto quella posizione, quel mantenere la schiena nella sua posizione più forte nella maggior parte dei casi. Ci sono alcuni casi, alcuni soggetti che possono trovarsi meglio ad avere una leggera lordosi più accentuata o meno accentuata, comunque questi casi vanno contestualizzati. In generale diciamo che più riusciamo a mantenere l'allineamento neutro della schiena, più riusciamo a esprimere potenza in esercizi come lo squat e lo stacco. Quindi cosa andiamo a fare e come riprogrammiamo questo input? Sostanzialmente quello a cui dobbiamo pensare è se vogliamo portare i fianchi al bilanciere il più possibile, in senso orizzontale, senza perdere la posizione neutra della nostra schiena, è di fare caso a quello che succede alle ginocchia. Quindi se noi non stiamo ragionando sul portare verso l'esterno le ginocchia, ma ci limitiamo semplicemente a portare i fianchi verso il bilanciere, ci troviamo in una posizione cifotica e di rettificazione del tratto lombare, quindi di nuovo perdiamo quella neutralità. Quello che andiamo a fare invece è pensare di spingere le ginocchia verso l'esterno, questo ci permette di accorciare artificialmente il nostro femore e quindi a essere il più vicino possibile al bilanciere. Quindi andiamo a vedere un giusto tensionamento nello stacco sumo, gaggio indorsale, spingo le ginocchia in fuori e posso anche fare pratica, rimanere in questa posizione in cui sollevo il bilanciere qualche centimetro da terra, cercando di mantenere l'allineamento neutro della schiena. Quello a cui penso è chiaramente spingere le ginocchia verso l'esterno, come se volessi portarle verso i dischi. E se fatto correttamente dovrei avere un allineamento molto più neutro alla schiena. Un'altra cosa che può aiutare è utilizzare anche a bassi carichi la cintura, perché la cintura è un importante strumento propriocettivo che ci dà una mano anche a capire come siamo posizionati, dove siamo nello spazio e che allineamento abbiamo alla schiena. Provate queste cose qua, non fate tanto caso a quello che fa il bacino, ma concentratevi sullo spingere le ginocchia in fuori, mantenete la schiena il più neutra possibile e fate andare su questo stacco sumo. Grazie a tutti.